Consiglio Comunale di Mussomeli nel pomeriggio del 25 marzo 2019 è andato a vuoto per mancanza di numero legale. L'assise era prevista per le ore 18 ed alcuni consiglieri erano già arrivati in Aue. Poco dopo le 18 è arrivato il Sintoco Catania e successivamente gli assessori Giuseppino Territo e Sebbi Loconte. Il presidente del Consiglio, Gero Valenza, dopo aver aspettato l'arrivo degli altri consiglieri, con il suono della campanella avvia la seduta che dopo la verifica dei presenti, con la chiamata dei consiglieri da parte del segretario del Comune, dottoressa Lucia Maniscalco, è stata rinviata di un'ora esattamente alle 19.30. Poiché appunto non si era raggiunto il numero legale. C'erano infatti presenti 9 consiglieri su 20 alla ripresa. La situazione delle presenze dei consiglieri in Aula non è migliorata, essendo rimasti a 4-9 di cui 6 del PD, un consigliere di Pensare Solidale e i consiglieri Mancino e Valenza. Mancavano in blocco i consiglieri che sostengono il Sintoco Catania ed il consigliere Sciarrino. Costatato il mancato raggiungimento del numero legale, il presidente del consiglio Gero Valenza ha rinviato alle ore 18 del giorno successivo, ossia il 26 marzo 2019, la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Intanto è questo l'inizio della seduta con la chiamata dei consiglieri. Lasciamo l'appello di questo lonti per un mare. Martorana Presente Muni Presente Capodici Nisturaca Valenza e Jessica Mancino Presente Valenza e Calagero Presente Misteretta Geraci Presente Castiglione Presente Cerino Modica Cardinale Presente Migrelli Gianluca Cambri Amico Presente Migrelli Salvatore Guadagnino Bullo Dilena Grazie alla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora L'appello all'appello all'appello allo sposto da tutti ieri per cui non vodo dell'opinanziare la seduta e ci aggiorniamo per un'ora di abilità alle 19.30 e questa è la ripresa dei lavori iniziatta al 19. Prego, l'Oriese. Rifacciamo l'appello. Marco Rana, Munir, Capogici, Misurata, Valenza e Jessica, Mancino, Valenza Calogero, Mistretta, Mistretta Assente, Geraci, Castiglione, Sciarrino, Modica, Cardinale, Nigredi Gianluca, Scambri, Amico, Gheri Salvatore, Guadagnino, Elson, Bullo Vincenzo, Milena Grazielli, e il Consiglio viene rinviato a domani alle ore 18. Era il Presidente del Consiglio Comunale Gero Valenza che ha rinviato la seduta del Consiglio Comunale a domani alle ore 18. Dobbiamo dire che la seduta era iniziata in prima convocazione alle ore 18.30 ma per mancanza di numero legale è stata rinviata un'ora dopo. E anche in questo caso non c'è stato il numero legale per cui il Presidente Valenza ha rinviato la seduta a domani pomeriggio. A tutti quanti una buona serata.